O mio Gesù che hai detto in verità vi dico chiedete ed otterrete cercate e troverete picchiate e vi sarà aperto ecco che io picchio io cerco io chiedo la grazia. Padre nostro, che sei nei celli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli, nei secoli. Amen. Sacro Cuore di Gesù confido e spero in te. O mio Gesù che hai detto in verità vi dico qualunque cosa chiederete al Padre mio nel mio nome e gli ve la concederà ecco che al Padre tuo nel tuo nome io chiedo la grazia. Padre nostro, che sei nei celli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli, nei secoli. Amen. Sacro Cuore di Gesù confido e spero in te. O mio Gesù che hai detto in verità vi dico passeranno il cielo e la terra ma le mie parole mai ecco che appoggiato all'infallibilità delle tue sante parole io chiedo la grazia Padre nostro, che sei nei celli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli, nei secoli. Amen. Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te. O Sacro Cuore di Gesù cui è impossibile non avere compassione degli infelici abipietà di noi miseri peccatori ed accordaci le grazie che ti domandiamo per mezzo dell'Immacolato Cuore di Maria tua e nostra tenera Madre. San Giuseppe Padre Putativo del Sacro Cuore di Gesù prega per noi.